Ehi ragazzi, io sono Callari e oggi siamo su Overwatch Perché siamo su Overwatch? Beh, perché mi andavo Io volevo fare questo video con tutto il cuore Perché è uscito il free weekend E quindi voglio provare a giocare da computer Come sai, vedi, gioco da Playstation e sono anche abbastanza forte Non sarò il più forte del mondo, ma è meno il più scarso Diciamo che sono a un medio livello, essendo anche Platino Quindi credo che sia molto giusto La cosa che mi dà fastidio a questo punto qui Ma credo proprio perché sia la prova Credo che ci sia quel... qualcosa Vabbè, andiamo a fare prima un deathmatch La cosa che mi dà più fastidio Non è tanto che il livello è basso Il fatto è che non ho le armi dorate di D.Va E mi sento nabbo Cioè, sono abbastanza nabbo col computer Perché non mi trovo per niente Però vabbè, io voglio provare Overwatch su computer Per vedere se appunto si può fare E così magari comprarlo, acquistarlo Buttare altri pentieri su questo gioco Oddio, la partita è subito iniziata Fra l'altro ho subito la skin di Shanghai Dragon Mio Dio Che cosa è bella Dai, dai Non ho nessuna skin Questa E questa Mi tengo questa qua Allora faccio vedere che sono forte Il livello di iniziare con D.Va E poi di provare qualche altro eroe Tipo Moira che è tumorazzo proprio forte Ok, prima kill, incredibile No, c'è un Lucio Quel personaggio è davvero orribile in questa modalità Perché viene Ti finica la kill E no E no E Torbucci non si può vedere Oh So katak Vedete che mostro che è l'uso in questa modalità Vabbè Vabbè Noi saremo sicuramente alla sua altezza Seriamente? Eeeh Giappo infane Muori Attacco dall'alto Muoio da che ci muoio? Eh Sono morta Fratt'altro parlo sempre al femmine Quando è che io non so perché Io parlo In base Mannaccia Non so giocare per niente A come è il personaggio Se è femmina parla femminile Se è maschile parla maschile E' qualcosa di davvero strano Non so nemmeno perché lo faccio Sapete che c'è? Ti tiro una ulti qua in bocca Lucio infame Boom Lucio Le mie ulti sono troppo forti Oh my god Oh Daburkiru Fantastico Ah lui sono da FK Ci sforma troppo No ma Mi ha fregato la kill Se ho dato Ma serio? Tra l'altro Piano ancora mi sto abituando Al computer Piano piano Molto piano Oh Da una diva Una bambina che ammazza un mostro Mamma mia Che poi non è tanto bambina 19 anni però In confronto ai vecchiacci Che stanno su sto gioco Ecco tipo sto infame Si vede comunque il livello 280 di overwatch No 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 Non ti fregano la kill Ok Tra l'altro non uso mai la matrice Oh tu non lo sapevi È ovvio Perché sei così innavo Mamma mia No Si sono messo un cancro Fra l'altro Vi racconto una cosa Volevo scrivere a youtube Ma ho scritto y Perché il nome era troppo grande Mannaggia Col maria Oh Si sono fregati quante kill Mi sono fregate Per sempre 7 kill A quest'ora Avrei vinto Cioè queste hanno vinto Hanno visto che diva Con diva Si è arrivata a quel punto E si sono messi tutti diva Mamma mia Ragazzi dai che appena Oh mio dio Il raggio di quella Oh doppia No Tu sei proprio un infame Ucciderò per te Per ultimo Mamma mia Con 11 kill Sopra il primo Callari game Y Vince Eppure azione Un'altra partita Insomma domina questa partita Il migliore Ovviamente Mamma mia Un'azione veramente degna Di nota Allora a questi livelli Serve bene l'esperienza Per salire Vabbè apriamo il mio forziere Anzi sapete che c'è Me ne faccio un'altra Visto che Sono molto ispirato Da questa cosa Anche per aggiuntere 10 minuti E poi mi apro Due bauli insieme Oh mio dio Acquisto Overwatch Sì Prendiamoci nella schermaglia Anzo Perché fa figo Anzi sapete che c'è Visto che Widowmaker È veramente fortissima Voglio provare Su Come si chiama Sul computer Come si prova A essere una Widowmaker Ok picchiamo Come al solito Diva Ovviamente Perché l'eroe È più figo Di tutto il gioco Che bello Mamma mia Ok iniziamo Questa partita Con 1200 Di vita Perché come al subito Lo dovreste sapere La mia data Chaos totale Così questo junket È veramente Nabbo Mamma mia Beh l'ho mangiato Ho già la ulti Seriamente Zero kill Serio Davvero Mi stai prendendo in giro Io ho quella pro Zero kill Che cosa Ah ma dobbiamo attaccare L'obiettivo Tra l'altro Me ne l'ho dimenticato Tanto sono nabbi Questi qua Io conquisto la zona Sai che c'è Tututà 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 Ci volo Primo punto preso Secondo punto preso È arrivato Uno scassa Serio? La mia squadra È inesistente Ci sono solamente Oh Guardate In questo gioco C'è un punto Da catturare Capito? Non ho bustato Perché io sono l'unico È inesistente È inesistente Oh Doppia Finalmente qualcosa Eh vabbè Ma sta sta mima È livello 51 Quindi hai imparato a giocare E non ha battuto Quella che mi ha imparato a giocare Però c'è sto l'uso Che è scassa forte Cioè io sarò abbastanza nabbo Perché non so giocare sul computer Però Gesù Questa mei Sai che c'è moglie Usa la ulti? Se sopravviene un'altra volta Oh god L'ho uccisa Madonna Però non so che teneva Che squadra di completi salami Madonna Mamma mia Vediamo che troviamo Mamma mia però che schifo Almeno una leggendale per festeggiare Che cacchio è È l'ottavo Oh sì Buon anno Sì 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 Buon anno Questa non mi interessa Questa non mi interessa Questa non mi interessa Questa Seriamente Che schifo Dio mio Madonna Niente ragazzi Il video finisce qui È stato un po' Un video abbastanza stupido Però che mi andava di fare Perché avevo voglia Oh che bello Usa Al posto di questo qua Al posto di questo qua Ok Riempiamo tutto quanto Basta È bello Tra l'altro io voglio questa skin Ragazzi Chi di voi ha questa skin È una brava persona Molto fortunata Bello lui Madonna Bene ragazzi Come ho detto Se il video vi è piaciuto Like, commento, condivisione Se siete nuovi Iscriviti al canale Io mi faccio un'altra parte Da vecchetti miei Noi ci vediamo Un prossimo video Ciao